E' il porto del tramani vero bombardato, e dopo una volta passata il rifugio, e mamma è a sua casa, non l'ha più trovato, e a sua casa la scusa, e a camera l'ispeggio, e notte inglesi che ha bombardato. Anzono, anzono, patina al naso, questa è la casa di Santuñaz, Santuñaz, e Santu Signore, questa è la casa di nostri Signori. Sì Sì E quando che in Africa c'era ufficiale, ed io la so sta, prima i parenti, prima venessi a me, ma venessi a me, ma venessi a me. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grazie a tutti.